ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi un video un po speciale perché vuole essere una sorta di consigli per gli acquisti dato che siamo ad agosto e tutti magari vanno in vacanza o hanno comunque interesse ad avere un gioco da portarsi avanti voglio consigliarvi elix 9 euro e 99 anziché 49 99 l'80 per cento di sconto beh non so se ve lo ricordate lo avevo portato diversi anni fa è un gioco davvero molto particolare che riprende quelli che erano stati i vecchi gothic 1 2 3 con questo stile un po moderno post apocalittico con la stessa quasi legnosità che aveva tutta la serie di gothic è un gioco che vi potrebbe tenere incollati dalle 60 alle 100 ore con una vastissima mappa diverse fazioni a cui unirsi delle abilità da portare avanti e soprattutto è un gioco da giocare con l'ottica che all'inizio dai nemici è meglio assolutamente fuggire c'è questo combattimento con la rotolata la possibilità di usare il jetpack è un combattimento che seppur legnoso per gli appassionati di giochi di ruolo di vecchia data sicuramente piacerà perché vi darà la soddisfazione di vedere il vostro personaggio crescere quindi se volete qualcosa che vi dà una certa continuità nel vostro personaggio vederlo evolvere vederlo prendere dalle armi bianche alle armi a proiettili diciamo a phaser è una cosa diciamo come ho detto post apocalittica con un sacco di personaggi con cui parlare un sacco di missioni da fare missioni che sono infattibili tante all'inizio è un gioco davvero 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 particolare a un prezzo assolutamente bassissimo ora e ovviamente le controindicazioni ci sono nel senso che se siete un giocatore moderno assolutamente magari abituato a giochi ottimizzatissimi come quelli di oggi insomma però guardate i panorami che si possono vedere se invece siete dei giocatori di vecchia data che comunque non guardano molto al lato tecnico ma guardano per lo più alla storia il fatto comunque di avere qualcosa da giocare da spolpare da esplorare da scoprire Enix è sicuramente il gioco che fa per voi non guardate le recensioni steam diciamo soprattutto quelle di giocatori che non si adattano a giochi vecchio stile ma guardate quelle con tante tantissime ore e ne troverete tante non guardate neanche appunto la media delle recensioni ma ora andiamo a vedere altri giochi ecco su steam trovate i saldi estivi di frogwares che se clicchiamo andiamo a vedere hanno degli ottimi titoli e soprattutto io mi sento di consigliarvi i due Sherlock Holmes The Devil's Daughter e Crimes and Punishment 5,99€ da prendere in blocco e giocarsi il primo e il secondo giochi assolutamente investigativi di deduzione con ambientazioni personaggi con cui parlare capire diciamo gli indizi e risolvere il caso e scoprire l'assassino quello è il gioco, i giochi, la serie di giochi che vi consiglio per quanto poi siano interessantissimi anche i vari Dracula e i Sherlock Holmes più vecchi tra cui questo che è un grande grandissimo classico rimasterizzato questo è il gioco che io mi sento di consigliarvi ora in questo nuovo video di consigli per gli acquisti perché assolutamente meritano ma c'è un altro titolo che mi sento di consigliarvi assolutamente ed è sull'Epic Store ecco sull'Epic Store io mi sento di consigliarvi questo Borderlands 3 se vi piacciono gli sparatutto cacciaruni insomma a 19,79€ al posto che ha 60€ insomma questo può essere calcolando anche che completamente se non ricordo male è doppiato in italiano quindi è uscito già da quasi un paio d'anni però resta comunque un must se amate gli sparatutti un po' taresci, un po' umoristici insomma ecco fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo format di consigli per gli acquisti però stamattina mi sono svegliato e ho visto le proposte per diciamo di stime e ho detto cavoli però Elix questi giochi qui e queste offerte li devo assolutamente comunicare vi annuncio anche che sto pensando di fare magari già nel pomeriggio oggi una live su un bellissimo gioco di ruolo vecchissimo stile ma abbastanza recente che si chiama Ballroom fatemi sapere alla prossima e ciao ciao